Mi trovo a Diamante in provincia di Cosenza. Perché Diamante? Perché io sono 26 anni che vengo qui. L'Accademia del Peperoncino, tutti voi ne avete sentito parlare. Il Festival del Peperoncino ormai è conosciuto in tutto il mondo e come Agnano io sono la madrina ufficiale di questa manifestazione assieme al grande Gianni Pellegrino che poi durante la puntata vedremo perché sarà una puntata ricchissima di ospiti. Avremo al taglio della torta la grande Elisabetta Gregoraci, abbiamo il Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e quindi non finisce qui, un casino di ospiti. Quindi non mi dilungo molto a parlare, io vi dico una cosa, non andate via e seguitemi! Donne! È arrivato il Peperoncino! Fate scorta per l'inverno! Donne! Ma ragazzi, ma io ti devo bloccare! Le donne, io donna, super donna, il Peperoncino! E sto scherzando naturalmente, ho il piacere e l'onore di avere sua maestà, Re Peperoncino Gianni Pellegrino, come stai? Bene, bene, perché quando sono vestito da Re Peperoncino mi pervade e mi... come... Che ti succede? L'energia, insomma... E voi sapete che il Peperoncino fa anche un brutto... no, un brutto... un bell'effetto quindi è il Viagra dei poveri. Allora, con Gianni ci conosciamo da tantissimi anni, io sono arrivata qui all'Accademia del Peperoncino grazie a Gianni, 26 anni fa. E quindi... E' ancora vergine, sì! E certo! Hai ragione, perché Gianni ogni tanto qualcosa di giusto lo dice. Allora, senti un attimo, per chi non è stato mai a Diamante, i nostri telespettatori cosa dici, cosa gli dici per invogliarli magari il prossimo anno di venire? L'Accademia del Peperoncino? Il Festival del Peperoncino? Ma che cosa dire? Basta vedere i risultati, i giornali, le televisioni... e poi devo dire ho perso la mazza! Uuuuh, la mazza dove... La mazza! L'aveva dimenticata! Senti, la mazza è mia! No, la mazza è sua! È mia, dammela! Fatela finita! Scusatemi! Al te ti do il bastone! Il bastone, mamma come ce l'hai pesante, è lunghissimo! Sì, avrai un successone col bastone! Allora... Se sei una brava ragazza, tienimi la mazza! Va bene! Io col bastone, col bastone avrò il successone! Senti un attimo Gianni! Tu, come ho detto prima, tutti ti conoscono qui a Diamante come il re Peperoncino, ma Gianni Pellegrino non è soltanto questo, perché tolta questa corona è un grande attore impegnato, tu hai fatto tantissimi film, non siamo qua a parlare di questo questa sera, però vogliamo citare qualcuno, l'ultimo che hai fatto solo, che come... Sì! Una replica bellissima, una serie tv solo con Marco Bacci... Per Canale 5, hai capito chi c'era? Quel bonazzo di Marco Bacci! Io potrei morire! Anche lui potrebbe morire se ti vede! Ma non sicuramente per lo spavento! Oh! Abbiamo la signora, tra un attimo glielo... Venga signora, venga! Lo vuole abbracciare, lo vuole baciare... Come sta signora? Come sta? Benissimo! Da dove viene? Da dove viene? Da Torino, però sono Reggio Calabria! Quindi sta Reggio Calabria, viene dal Piemonte, è la prima volta che viene qui al Peperoncino Sono le mie foto Monelle, sono un gruppo di... No! Dal 60 che vediamo qua! Allora, come dice Gianni, sono le foto Monelle! 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 No! Peperoncinizzatevi! C'è una bimba, vuoi venire qua che porta fortuna? Vieni! Vieni Sofia che arriva dall'Umbria, è una mia nipotina adottata! Sofia, vieni pure te, l'altra bimba! Vieni! Volete venire Sofia? Vieni qua! Ciao, come stai? Ti sta divertendo Diamante? Sì! Vuoi salutare qualcuno che sta a Otricoli? Bimbi, venite qua! No, vi dovete girare se no... Allora, Sofia, vuoi salutare qualcuno a Otricoli? Sì, mio papà! Tuo papà che si chiama Sergio! Ciao Sergio! Poi abbiamo queste bimbe, come vi chiamate? Matilde! Matilde, che bel nome quella signorina bionda! Con quei due occhialoni a forma di cuore, come ti chiami? Chiara! Chiara! Allora, venite più qua davanti a me, perché adesso, Sua Maestà, giratevi verso la telecamera, giratevi verso là, adesso in diretta proprio ci sarà Sua Maestà Repeperoncino che farà questa benedizione. Io mi metto, scusatemi, mi metto vicino a lui così gli do il microfono. Ecco la peperoncinizzazione di queste belle bambine! Bambine! Bambine, beh, Bambine, 14 par combined! Non sarete mai malate! Andate tranquille e beate! Ciao! Facciamo un applauso tutti quanti a Sua Maestà Repeperoncino per questa benedizione. All'anduia, 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 donne è arrivato il peperoncino e così come è arrivato se ne va, ciao! Ciao Gianni, grazie! La mazza, il bastone Gianni! No, io non volevo dirgli nulla, grazie, sempre un grande amico e in bocca al lupo e noi stasera saremo con Gianni in diretta a mezzanotte con Radio Azzurra, con l'Osteria della Malora, questo spettacolo che lo portiamo avanti da tanto tempo. Gianni, ti posso dare un bacio? Ciao! Ciao tesoro, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao! Le sorprese non finiscono qui perché adesso ho un personaggio, io poggio anche la borsa, ho un personaggio, un ospite straordinario, tutti voi l'avete visto a Canale 5, da Maria De Filippi, tu sì che vale! Ho qui con noi il grande piacere di avere Antonio, ciao carissimo, come stai? Bene, io sto molto bene, a novembre... Mi lasci il microfono, grazie! A novembre si ritornerà probabilmente molto da Maria De Filippi a Turchi Vales, sta per iniziare la grande turna ad ottobre in Germania... Quindi super impegnato con questa tournée, allora tu sei diventato popolare per le tue, oltre la tua canzone, per questa piruletta... Mamma mia, senti un attimo, io ti lascio il microfono, ci canti un pezzettino di Gloria, ma poco, vai! Direttamente da Tussi che Vales, Antonio vuol dire il cognome? Antonio D'Angelo, direttamente da Tussi che Vales, aspetto a Gloria... 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 Ciao a tutti i miei fan, vi aspetto con le mie serate in allegria, con Antonio D'Angelo e Francesco in compagnia... Ciao a tutti, sta per fare una grande turna e in tutte le parti mi vedete fa poco a Milano perché Tussi che Vales mi ha detto... Sì perché io oggi è la prima volta che mi trovo con Bluetta, è una grande amica mia, purtroppo saluto tutto Diamante, fa poco sto a prendere anche in diretto con Radio Tour... Non mancate per le vostre mie serate, il mio manager è Francesco Spinelli e Antonio D'Angelo, 389, 2035 e 556... Ciao, una bacia a tutti! Guarda, grazie veramente della tua disponibilità, tu hai detto tutto, abbiamo detto il tuo agente, il tuo manager, il numero di telefono, la pagina Facebook... Abbiamo detto di tutto, di più, io vorrei, non ti do il microfono perché non me lo dai più, io vorrei concludere con te, con queste super pirulette, vai! Direttamente da Tussi che Vales! Ciao carissimo, ben ritrovato a Diamante, come stai? Bene, bene, come va? Va benissimo, siamo registrati a questa puntata di Bluetta on the road e io, come ho detto prima al microfono, ho 26 anni che vengo qui, tu sei stato il primo, il primo è sempre sabbia d'oro, giusto? Sabbia d'oro di Belvedere Marittimo, tra Diamante e Belvedere siamo! Esatto, Palmino, nome una garanzia e poi è stato il primo che all'inizio dell'apertura di questo grande festival del peperoncino ad aver inventato la crostata del diavolo, vero? La crostata al peperoncino è un dolce delicatamente piccante e ha anche un dolce digestivo, la crostata del diavolo, chiamata! Ok, io chiedo scusa, mi inquadri tutti i clienti in fila solo per poter degustare uno dei piatti del nostro Palmino, noi ti ringraziamo, ti dobbiamo salutare ma io farei una puntata intera con te e poi dovete sapere una cosa, che lui è l'unico chef con un microfono sempre in mano! Allora, io che cosa vi devo dire? Auguri e buon festival a tutti i telespettatori di Tele Diamante e di Tele Mia e vi auguro, vi aspetto al sabbia d'oro che si trova tra Diamante e Belvedere sabbia d'oro, Belvedere Marittimo, Cosenza, Calabria, Italia, Europa. Buona serata! E diciamo mondo perché lo conoscono in tutto il mondo, Palmino! L'amico nostro lo lasciamo perché sta lavorando, grazie Palmino, batti 5, grazie! E voi non andate via, proseguiamo! Salve signora, buonasera, da dove viene? Io vengo da Bustarsizio Bustarsizio, come no! Conosciamo benissimo, la prima volta che viene a Diamante? Eh no, è qualche anno che frequento, sì Come trova questo peperoncino festival negli arco degli anni? Sempre più piccante Sempre più piccante, lei da dove viene? Toronto, Canada Toronto, noi abbiamo un casino di amici che ci seguono da Toronto perché noi andiamo in diretta streaming anche in tutto il mondo Vuole salutare qualcuno, magari in inglese, e dirgli di venire a Diamante e avvisi di trovarci? Certo! Ciao mamma, venite a Diamante per il peperoncino festival, è bellissima! Vogliamo salutare con la mano nella cam? Ciao da Diamante, peperoncino festival 2018! Sempre Diamante, peperoncino festival 2018 Come ho detto all'inizio di puntata, Diamante è stata definita anche da personaggi illustri della letteratura Come la perla del Tirreno E io ho il piacere di avere qui con noi questa sera il sindaco di Diamante Buonasera, come sta? Ma stiamo bene, bene Un po' stanchi ma molto contenti Ma secondo me bisogna essere soddisfattissimi perché ormai io sono 26 anni che vengo al peperoncino festival Grazie a Enzo Monaco che ogni anno mi ospita Allora, cosa ne pensa, come sta andando questo peperoncino festival 2018? Abbastanza bene, devo dire sono molto soddisfatto anche perché le giornate sono bellissime Poi c'è un mare splendido per cui i nostri ospiti possono anche approfittare di un mare splendido pulito Diciamo che funziona tutto perfettamente, i servizi sono stati messi a puntino Penso che non ci sia assolutamente nessuna manchevolezza Anche perché questo discorso è la parte finale di una programmazione che avviene un pochino anche nei mesi scorsi Quindi grazie anche a Enzo Monaco, all'amministrazione comunale che lo supporta Mi pare che le cose stanno andando molto molto bene Io recentemente ho letto da qualche parte su un quotidiano, mi sembra, su un settimanale americano Che addirittura il peperoncino festival è tra i 36 festival più belli al mondo Da casa avete sentito, al mondo, è vero sindaco, ce lo conferma? È una rivista canadese che ha detto questo, è uno dei 36 festival più belli del mondo Tenga conto che ieri sera lo dicevo dal palco col ministro Centinaio che abbiamo avuto l'onore di avere come ospite Gianmarco Centinaio che noi l'abbiamo anche avuto come ospite in puntata Sì, è venuto qui e il gambero rosso ha detto che è l'evento imperdibile di settembre Quindi è a livello ormai intercontinentale questo festival Certo, poi il festival perché è nato da sempre, dalla prima edizione non come sagra Ma come festival perché molti confondono la sagra con il festival E quindi è veramente grande la mente di Enzo Monaco che è riuscito dalla prima edizione A portare avanti con amore e con passione questo progetto E oggi dopo 26 anni veramente il peperoncino festival è arrivato in tutto il mondo Io la lascio perché so che è impegnato, sta facendo i vari giri Signor sindaco, io la saluto e la ringrazio, arrivederci Un'ultima cosa, chi non è stato mai a Diamante, cosa vuol dire? Deve venire assolutamente l'anno venturo Avete sentito? Grazie, buona serata, buona serata, arrivederci Questa bellissima ragazza, siamo ancora qui, come ti chiami? Sabrina Sabrina, cosa stai stappando? Sto stappando un ferrocinto calabrese E quindi siamo a Diamante, cosa potevamo? Prendere un merlot? Assolutamente no! È vero, da dove viene? Da Napoli Napoli, c'è una grande presenza di napoletani qui Città del Vesuvio La città del Vesuvio, certo non è il primo anno che venite qui No, sono 38 anni che vengo qua Quindi 38 anni ma non vi dovete... Metà calabrese Metà calabrese, è una cosa fantastica, invece barbetta lì? Iguale, da Napoli Cosa state assaggiando voi? Il vinello? La sommelier sta mettendo, che ci sta mettendo? Un ferrocinto Un ferrocinto, ok Noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro Ciao, ciao ragazzi, ciao con la mano, dai Facciamo ciao, ciao da Diamante Ciao, 0G Allora, l'alloro, il finocchetto, la liquidizia, il bergamotto E quindi tutte antiche sensi di sapori dalle proprietà uniche Che affondano proprio le radici in una terra dalle tradizioni e della storia millenarie Naturalmente mi trovo qui con il nostro amico Vado dietro Ciao carissimo, come stai? Grazie, bene Allora, noi ci troviamo qui perché io, devi sapere, che Nini Barnini, mi ha fatto assaggiare un cocktail con questo tuo liquore Abbiamo qui il produttore, vero? Allora, non sono direttamente il produttore, però come se lo fossi Questo è un amaro che viene fatto a Bova Marina A Bova Marina, quindi noi siamo della zona, io di Roccella, quindi siamo lì in zona Quindi il cacciuto, come nasce questo liquore? Il cacciuto nasce da una sera abbiamo scoperto questa ricetta Il proprietario dell'azienda Spina Santa ha inventato questo liquore Già dalla prima bottiglia che ha fatto lui Abbiamo visto che ha avuto subito un successo enorme In effetti mi hanno detto che è l'amaro del momento È un amaro che sta andando fortissimo Infatti anche qui non siamo in grado di soddisfare le richieste dei clienti E questo non ci può far che piacere Allora, abbiamo questo liquore fantastico Noi, che dire, ti ringraziamo, io ti verrò a trovare in azienda Perché a breve partirà un altro mio nuovo programma Che si tratta di arte culinaria, di ricette Sulla tavola, quale cosa migliore A fine di ogni ricetta, di ogni impasto, il cacciuto Possiamo nominare l'azienda Ma come no, devi, devi Poiché l'azienda, la Spina Santa di Bova Marina È oggi l'orgoglio della Calabria nel mondo Perché produce, oltre a questo liquore Produce una bevanda al bergamotto Che sta conquistando il mondo, proprio noi L'Europa, il mondo Ed è il bergotto Ma come no, io lo compro sempre Nel mio frigo non manca mai il bergotto E anche mia madre, lo breve Perché ho sentito dire che fa bene anche per i diabetici Fa bene per tante cose Il succo puro, quello È una bevanda dissetante al bergamotto Che comunque sta conquistando veramente il mondo Ormai quasi in dieci paesi del mondo E io faccio i complimenti veramente all'azienda Vogliamo ricordare una pagina Facebook Allora, la Spina Santa La Spina Santa è un'azienda di La Spina Santa di .com naturalmente Quindi l'azienda si trova sulla costa ionica Noi siamo qua sul Tirreno Che poi diamante è veramente la perla del Tirreno Ma anche dalle nostre parti Abbiamo delle belle belle zone Guarda, abbiamo detto tutto Abbiamo detto l'indirizzo Facebook Io do anche un numero di telefono E vedo 0965 761012 E io vi lascio Ciao e non andate via Perché noi proseguiamo Ciao caro Grazie, grazie ancora Signora che bella foto che ha fatto Ciao e da dove arriva? Da Cosenza Quindi in zona Certo sicuramente non sarà la prima volta Che viene qui all'Accademia del Peperoncino Al Peperoncino Festival Assolutamente no Faccio parte dello staff di Moda Movie E quindi stiamo organizzando la sfilata Ma come no Noi verremo con le nostre telecamere Anche perché questa sfilata di moda Tutta al Peperoncino Quindi urge da venire a vedere Perché no Magari il prossimo anno Indosserò uno di quei vestiti Senz'altro Li inviteremo senz'altro Allora l'aspettiamo Ma come no La saluto La saluto Arrivederci Grazie Arrivederci Senti un attimo Sofia viene Ecco la mia nipotina Noi ci sediamo qui Allora vorrei ricordare Che siete sempre su Blue 8 on the road Quindi questo nuovo programma Non andate via Perché le sorprese Non finiscono qui Sofia la verità Quanto ti stai divertendo? Tantissimo E il mare com'è? Bello E' bello E' bello quindi La differenza Io so che tu vai sempre a Rimini Adesso non vorrei dire Parlare male di Rimini Ma la differenza tra il mare di Rimini e qui? Che il mare di Rimini è un po' sporco Invece questo non è sporco Quindi ha detto che si vedono i pesciolini Mi ha raccontato Noi andiamo Sai che facciamo? Perché le sorprese Non finiscono qui Andiamo a sentire Cosa dicono le persone Dai Corriamo Corriamo Salve Da dove vieni? Da dove vieni? Da Parma Emilia Romagna Come no Io ho vissuto anche a Modena Allora Cosa ne pensa di questo Peperoncino Festival? È una bella festa Bella Vengo tutti gli anni Mi mancava questa cento emiliano Ah no davvero Ma le tizelle? Eh sì Sono più reggiane Sono più reggiane Signora anche lei e la moglie? Sono fritta Ma come no Come no L'erbazzone Anche l'erba Eh certo Parmigiano Culatello Salame di felino Noi non abbiamo queste cose Ma sicuramente Abbiamo la fortuna di vivere in Italia Questo paese dove Veramente si mangia bene In ogni regione Dove si va Mare bello Certo Certo Allora Vogliamo salutare In Cam Dai nostri amici Dall'Emilia Romagna Ciao Diamante Non è solo peperoncino Non è solo gastronomia Ma tanta arte Arte anche di strada Qui abbiamo il nostro amico Che arriva dalla Toscana Arriva da Firenze E lui lo troviamo Sempre in giro In giro per l'Italia Anche una postazione Fissa a Firenze Vediamo se Se ce lo dice Da dove Che postazione a Firenze Ciao carissimo Ciao carissimi Calabresi Io vengo da Firenze Dal piazzale Degli uffizi Sono qua ospite Ma da tantissimi anni Che mi chiama L'Accademia Del peperoncino Sono felicissimo Di essere qua Perché è veramente Una festa bellissima Poi a differenza Di tanti altri Serate Che uno va a fare Diamante Nonostante che siamo Qui per lavoro È un gran Gran divertimento E ci si rilassa E ieri Ci sarà tantissima gente In questi cinque giorni L'anno scorso Si parlava Di un numero strepitoso E quest'anno C'è una grandissima affluenza Noi ti lasciamo Al tuo lavoro Ciao Ringrazio Ringrazio Tutti i calabresi Per l'ospitalità Grazie a te Di essere qui con noi E noi andiamo Perché non è finita qui Ci troviamo Nello stand D'RER Ciao carissima Come ti chiami? Irina Irina Senti un attimo Io sono tanti anni Io vengo tutti gli anni In questa manifestazione E tu mi sa dire Da quanto anni È lo sponsor ufficiale Del Festival del Peperoncino Siamo da 26 anni 20 sono passati Mio caro Mario 26 anni Dalla prima edizione Dove l'Aldrer Era un evento straordinario Ricordo Sul palco principale Dell'Accademia Dove c'era questo gigante Sto gonfiabile Gigante Con tutti i gadget Dell'Aldrer Ma io Tu la bevi la birra? Sì sì Tantissimo Naturalmente Mica gli posso chiedere Quale birra beve Naturalmente noi beviamo L'Aldrer Forever Ciao Siamo ritrovati qui allo stand dell'Aldrer Si trova di tutto Ci fa piacere trovare un amico come te Ciao carissimo Come stai Se vogliamo dire il nome Doveroso Io sto bene Io sono Santo Enrico Come tu sai Sono qui di passaggio Questa sera per la manifestazione Certo Perché come dicevo prima L'Accademia del Peperoncino Non è soltanto peperoncino Ma ce n'è di tutto Di più E quindi questa sfilata di moda Qui sul palco principale Ci vuoi parlare Tu sei l'organizzatore Naturalmente di questa sfilata Ci puoi parlare di qualche stilista Qualche collezione particolare Come nasce questa sfilata All'Accademia del Peperoncino Questa si chiama Trame di moda Sono le varie città Non solo italiane Ma anche internazionali Che fanno parte E quindi Diamante fa parte di Trame di moda E' il settimo anno che noi partecipiamo Con i finalisti del nostro festival Che è il festival denominato Moda Movie Quindi è proprio un festival Dove si gira Un po' in giro E c'è questa finale Proprio a Diamante In questa occasione Ma sai che non ho mai Non è una finale Diamante Stasera è una tappa È un'ospitate che noi faremo Guarda io non ho mai sentito Di un giro così di moda È stata una Secondo me Una delle grandi belle iniziative E secondo me Sarà accoppiata presto Magari Noi siamo felicissimi Noi siamo felici Se ne vengono fuori delle altre Noi siamo noi E resteremo sicuramente noi Poi se ne vengono delle altre Servono per stimolo Per poter fare ancora meglio Guarda Noi ti ringraziamo Sei stato gentilissimo Non ti prometto Perché dovremmo fare ancora Due o tre giri Se noi riusciamo Veniamo con le nostre telecamere A questa sfilata di moda Per adesso Grazie E in bocca al lupo per tutto E soprattutto Per la gran bella iniziativa Grazie a voi Grazie Buona serata Salve E voi non andate via Noi ci troviamo Nell'area riservata Proprio Privata Dello stand Dell'Adrer E qui abbiamo Un altro personaggio Tu sei l'addetto Alla pubblicità Dell'Accademia del Peperoncino Innanzitutto Ciao Come ti chiami? Salvatore De Runa E quindi Tu cosa fai? Porti in giro La pubblicità? Sì anche Mi interessa anche Il festival del Peperoncino Ma certo Senti un attimo Peperoncino Piccantezza Quella Ti voglio fare una domanda Un po' piccantella Ma cosa ne pensi Dell'amore? Penso tutto L'amore Tipo? Tipo Vuole avere bene di cuore E beh Quello è importante Poi? Mi piace Diciamo Una donna Sta vicino a me Mi sono contento Tesoro Mi parli di cuore Mi parli Una donna Che sta vicino a te Amore mio Ma nell'amore Serve qualcosa Altro Quel piccantino Vicino all'amore Quel piccantino Vicino All'amore Senti un attimo Io so Un uccellino Mi ha detto Che tu sei Dove c'è una corrida Tu non manchi In che ruolo Ti presenti In queste manifestazioni? Io faccio Dice Spade me l'uomo ragno Dai L'uomo ragno Che mi sa che tu hai visto Però Io so anche Che tu sei Un rumorista Anche Dai Per gli amici Che ci seguono da casa Ci fai qualche rumore Cosa fai in genere? Diciamo Un rumore Del vento Ma l'uccello Me lo fai per me? Lo sai fare Il verso dell'uccello? Penso Che ho più l'aquila L'aquila Vabbè E' sempre un rapace E' un bel uccello grosso L'aquila Allora come fa? Ah 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 ma sei bravissimo Senti qualche altro rumore Dai dai vai Più forte E qui siamo al vento Non lo so se arriva da casa Io c'ho anche il cappuccio antivento E un controsenso Qualche altro rumore poi ti lasciamo Perché tu so che sei in giro Qui abbiamo tutta la programmazione Di questo Peperoncino Festival 2018 E vorrei ricordare che c'è di tutto E c'è la grande Elisabetta Gregorace Ci sono grossissimi nomi A questa ventisesima edizione Guarda un ultimo Un paio di rumori a stocco E via dai Posso fare anche il rumore del treno Il treno Dai dai Il treno che vi porta Tutti quanti a diamanti Il prossimo anno E un treno a carbone Un po' scarico proprio Allora l'ultimo Bello Bello consistente Rumoroso Dai ultimo Qual è? L'asinello va bene L'asinello Il ciuccio Dai dai Faccio il stasinello Ma però con Un bel Ragazzi Veramente bravo Noi ti ringraziamo Prendi tutti Prendi tutti Un saluto per la tren L'ultima sera Sempre con la tren Birra è buonissima Della stanza della tren Va bene Togliamo la N Mettiamo la R La DREER Dai Fa niente Pranto qui Oh ma siamo un bel po' Che siamo qua Non riusciamo ad andare via Dalla DREER E come ho detto prima Non solo nelle manifestazioni Ma anche da casa Comprate E bevete solo DREER Attenzione al signore dietro Ed eccoci qui Sempre Peperoncino Festival E sempre su Telemia Canale 85 Tele Diamante Questo Gimellaggio Per questa occasione Grande amico L'editore Anche di Tele Diamante Mario Pagano Che stasera Mi fa da cameraman Sono veramente onorata Allora Siamo al Festival Del Peperoncino E ormai È ormai diventato Un festival Non quasi Mondiale Internazionale Perché mondiale Perché il prossimo anno Si andrà pure in Cina Io ho avuto modo Di conoscere Il signor Lee Che è il più grande Produttore Produttore Di Peperoncino Al mondo Ciao innanzitutto Come ti chiami? Luca Buonasera a tutti Signori Ciao Luca E questo è un festival Molto importante Ogni anno Si regala una macchina Quest'anno Il premio Della lotteria L'ultimo giorno Del festival Verrà fatto Un'estrazione Qui abbiamo Il biglietto Allora Ci spieghi Che macchina In palio Quest'anno Allora Una macchina Bellissima 500 L Naturalmente Poteva essere Poteva essere Bianca Poteva essere Verde No Che colore Rosso Peperoncino 500X Bellissima Rossa Fuoco Peperoncino Per tutti i signori Che partecipano Al nostro bellissimo festival Quindi comprate Tutti quanti Il biglietto Con un costo Di solo 5 euro E il fortunato La fortunata Andrà via Con la macchina Da diamante Ok Vengono i signori Allora Lo stacchi Che glielo diamo A pagano Il primo Sì Glielo diamo A Mario E quest'altro Lo compro io Dai Allora Non siamo No Non sbagliamo i numeri Questo è il mio Allora E qui non c'è nessuna Raccomandazione Ci sarà il notaio Tutti quanti che faranno L'estrazione Immagini Mario Io tu che andiamo via Con questo spettacolo Di macchina Ha detto Mario Che mi dà un passaggio Allora Se vinco io Ti do il passaggio io E voi Non andate via Perché Andiamo a piedi Per adesso Con le nostre Interviste Ed eccoci Ci troviamo Qui sempre diamante In Calabria Ma non poteva mancare Al Peperoncino Festival La nostra vicina La nostra cugina Sicilia Ciao carissimo Come ti chiami? Salvatore Salvatore Qui abbiamo un Be di Dio Proprio Allora Voi Ed io ho tanti anni Che vengo qui Ma anche voi E sono tanti anni Quant'è che è venita Diamante al Fest? Più di dieci anni Più di dieci anni Mario Guarda che spettacolo Il cannone siciliani Con abbiamo Il pistacchio di Bronte E al cioccolato Pistacchio La cassata Che cos'è quella lì? Pomba al pistacchio Pan di spagna Caffè Cioccolato fondente Ricotta E pistacchio sopra Ragazzi Tenetemi Perché Svengo Ma ne mangiamo uno Io vorrei assaggiare La cassatina La cassatina Io mi sbaglio Sempre Mario Io mi alzo Il mattino Dico Oggi faccio La serie Ma credetemi Mi è quasi Impossibile Ma lo metti in bocca Papille gustative Aperte A 360 Gradi Dicevi? No basta Poi la mangio Con calma Io non vado più via di qua Tu come ti chiami? Salvatore Ma voi Cosa fate dopo il Peperoncino Festival? Come funziona? Partiremo per Torino La prossima tappa sarà a Torino Quindi Ah ma la grande Allora giriamo in tutta Tutta l'Italia Sì Dopo a fine settembre Saremo a Foligno Ai primi d'Italia Io a Foligno Io vivo in Umbria E mi alterno tra l'Umbria e la Calabria Io abito a Tricoli Quindi stiamo vicino a Foligno Però questa scoppolina siciliana Ma ragazzi Ma siete favolosi Grazie Allora Io voglio Vi chiudiamo Vi do un bacino Ciao Ciao E proseguiamo Andiamo Ed eccoci ancora Con Gianni Pellegrino Ventiseisima edizione Di questo Peperoncino Festival Gianni come va? Oh mi sono confusa L'altezza è uguale Sto parlando con la sagoma di Gianni Allora Ventiseisima edizione Come dicevo Prima Festival del Peperoncino Ogni anno Sempre più strepitoso Quest'anno Veramente un festival Con i botti E quando si parla di botti Naturalmente vengo a trovare L'amico Lanzellotti Ciao carissimo Come stai? Tutto bene Grazie Allora L'amico Lanzellotti Che è di Squillace Lido Dove c'ha questo punto vendita A Squillace Lido Lo troviamo anche sui social Origini di Amarone Dove producono quest'oro verde L'olio Lanzellotti Che Mario ha inquadrato prima Abbiamo proprio il manifestino nuovo Che lo sponsorizza Gianni Pellegrino Rep Peroncino Come nasce questa cosa dell'olio? Avete So che è una produzione proprio tua E dei tuoi fratelli Una società di tre fratelli Che ci siamo messi Abbiamo fatto un frantoio E adesso produciamo olio e miele Olio e miele Ma non solo Perché io conosco i tuoi pomodori secchi E di tutto di più Allora Quando passate da Squillace Lido Proprio al semaforo Trovate Lanzellotti Giù nella stadina Che va verso la stazione Ma non solo questo Perché Lanzellotti spedisce i suoi prodotti I suoi olio In tutto In tutto il mondo Quindi contattatelo Sul proprio Sulla pagina anche Facebook E quindi senti un attimo Diamo un recapito Telefoni col volo Perché io sono ciecata Non leggo Allora abbiamo Lanzellotti Allora www.lansellottishop.com E quindi Quest'oro verde Arriva a casa vostra In qualsiasi posto del mondo Voi vi troviate Senti Carissimo È sempre un piacere venire da te Io ti saluto E mi raccomando Venite E soprattutto Sulle vostre tavole Sono importanti I prodotti Genuini In effetti Come ti ho accenato prima Io tra poco Inizierò un programma Con le ricette Inizierò questo programma Le ricette Allacciate il grembiule Dove io prenderò Una massaglia Per volta O uno chef professionista Dove cucineremo La ditta Lanzellotti Sponsorizza con il Con il proprio olio Il mio programma Ma sinceramente Non si tratta Spesso solo Di sponsorizzare a meno Che sia un prodotto Non mi piace E non è di qualità Io sono io La prima che rifiuto Carissimo Batti 5 Tu ci vedete noi E noi ci vediamo di te Io ti ringrazio Ciao ragazzi Inquadra il pubblico Qui davanti allo stand Fate ciao con la mano Ciao Allora sempre questi stand Favolosi Questo lungomare bellissimo Chilometrico anche E ci troviamo qui Da Feipa Feipa Distribuzione Ecco qui Io sto assaggiando Il Salamino Innanzitutto ciao Come ti chiami? Federico Pasqua Federico Pasqua Ma che spettacolo Veramente Ma raccontami un attimo La produzione vostra Come nasce questa idea? Noi sono tanti anni Che abbiamo un caseficio A Marcellina Ed è nata così Da mio nonno Diciamo E noi portiamo avanti La sua tradizione Peccato che da casa Non potete sentire I sapori Ma veramente Sembra Tramandati veramente Alle vecchie Vecchie ricette Vecchie sapori Quindi senti Chi è da casa Come fa a contattarvi Quando non siete qua? Avete un punto vendito? Avete un sito facebook? Purtroppo al momento no Però ci stiamo organizzando Per averlo Ok Appena Ce lo avete Mandatemelo subito Che lo comunico Sento un attimo Ho assaggiato il salame Ma qua c'è di tutto Di più Non ci vuoi parlare Un attimo Che cos'è questa Che la vedo macchia Un caciocavallo Semistagionato Col peperoncino Fatto apposta Per la festa del peperoncino Il caciocavallo Io sinceramente Al peperoncino È la prima volta Che lo assaggio Peccato che non si può vedere Da casa Sennò C'ho qui un Un pezzo visivo Vedi L'abbiamo fatto Ma come no? Quindi Mamma è piccante Ed è buonissimo Quindi Quello è il caciocavallo Classico Questo In occasione Del festival Del peperoncino Noi Non ci facciamo Mancare nulla E abbiamo aggiunto Il peperoncino Guarda Io Ti ringrazio Queste sere Verrò a trovarti Quando vuoi siamo qui Fino a domenica Siamo qui Ok Prima di partire Il caciocavallo Me lo vengo a Me lo vengo a Sequestrare Ciao Salve Allora Diamante Che dire Qua non Non basta Una puntata Qui si potrebbero fare Tante puntate Migliaia di persone A questa manifestazione Importantissima E a questo punto Stavamo pensando Con Mario Perché non ne facciamo Un'altra di puntata Allora Da qui diamo Appuntamento Finisce qui La prima parte Di Bluette On the road E quindi Vi do l'appuntamento Alla seconda parte Ciao a tutti Per adesso Da Diamante È tutto Quindi vi aspetto Alla seconda parte Baci Abbracci E zucchero A quadretti Ciao a tutti Da Bluette Cataneo Ciao a tutti 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 Grazie a tutti